Cine, giornata di cinema di Riccione, siamo qui con Maria Chiara Fraschetta in arte Nina Zilli, canta anche conduttrice e adesso anche attrice, insomma, debutata con questo La California, che film è? La California è un film tutto emiliano, in ogni senso, a partire dalla regia, arrivando alla storia e passando ovviamente anche per gli attori, come potete vedere, è un film che mi ha affascinato dalla prima lettura della sceneggiatura, Cinzia e Piera degli Esposti hanno veramente fatto un lavoro incredibile, il nuore è uno dei miei generi letterari e cinematografici preferiti, quindi diciamo sono andata proprio a nozze con quel che ho letto e con quel che ho immaginato, anche perché, insomma, da bambina emiliana, cresciuta a Gossolengo, piccolo paesino di 800 persone in Emilia, mi sono rivista, mi sono rivista ovviamente corsi e ricorsi storici, quindi cambia il contesto, però di fatto quello che è la noia della provincia, il piattume, le poche possibilità ti fanno sognare, anelare, sono grandi cose di solito, e quindi mi sono ritrovata in questi personaggi che hanno grandi sogni, proprio dettati dalla ristrettezza di questa realtà, che quasi ti fa venire voglia di scappare, di andartene, e ovviamente, ahimè, così come nella vita, però la percentuale di quelli che ce la fanno è veramente bassissima, che è uno su mille, forse anche troppo, e quindi c'è tutta quella amarezza, quella verità, però, della vita, no? Sicuramente non è una storia che cerca il lieto fine, ecco, non è una storia dai canoni classici, anzi, ti lascia veramente sospeso fino alla fine per sapere come andrà a finire. Ecco, solo a settembre 2021 hai dichiarato che non c'era ancora, diciamo, salto a questo passaggio al cinema, e anzi avevi un po', diciamo, paura, il ghetto di questo grande salto. Sì, da sempre, da sempre, ho questa paura perché è un mestiere, e quindi ora che, diciamo, ho fatto dodici anni, no, in questo ambiente, diciamo, ho iniziato anche a fare e ad approcciarmi a questo mondo, a fare cose che si possono un po' mescolare, uno sketch con i soliti idioti, recitare il Sarchiapone con Massimo Ranieri e Vincenzo Salemme, mi hanno dato coraggio, all'inizio non mi sentivo pronta, non mi sentivo pronta per nessun regista che mi avesse interpellato, chiaramente, si può dire, me la facevo sotto, proprio quella roba lì, e invece oggi mi sento un po' più grande, un po' più pronta, con più esperienza anche di macchina, perché il mio lavoro, ovviamente, è fatto anche di questo. E quindi mi sono lanciata, certo, ringraziamo Michael Margutta, che mi ha aiutato, un acting coach, bravissimo, mi ha dato due o tre consigli che credo siano veramente l'ABC della vita dell'attore, e sono arrivata molto più leggera sul set, perché comunque ero preoccupata, non è il mio lavoro, e non sapevo se sarei riuscita a farlo bene. Invece, parlando del tuo rapporto con il cinema, adesso sono passati 15 anni da Mine Vaganti, mi incuriosi per sapere qual è il film di cui Nina Zilli avrebbe voluto fare la colonna sonora, o comunque essere inclusa nella colonna sonora, e viceversa, qual è la canzone di Nina Zilli, che pensi sarebbe stata molto bene in un film? Ok, allora, posso risponderti con la stessa domanda, proprio due per uno, perché L'uomo che amava le donne, è già un film, prima Le Chevalier, che è il romanzo, ovviamente, dal quale ha tinto Truffaut, io quel giorno tornai a casa e ero arrabbiatissima, litigai con il mio editore, che voleva che cedessi tutti i diritti della mia canzone, 50.000 a un altro cantante, quindi gli dissi, no, anzi, quella l'ho scritta io, ne scrivo un'altra, la classica dichiarazione da pugile, sono arrivata a casa, quella rabbia che avevo addosso, ho acceso la televisione, e proprio c'era il titolo, L'uomo che amava le donne, regia di François Truffaut, il film inizia, quindi io mi sono seduta, ho preso la chitarra, è finito il film, era finita la canzone, e quindi, ma magari, certo, sarebbe proprio, insomma, diciamo quella, ecco, è venuta così, magari un giorno qualcosa del genere, ci vediamo in sala con la California, e grazie mille. A presto, grazie a voi, vi aspetto, ciao.